Ad onore della Santissima Trinità per l'esaltazione della fede cattolica e l'incremento della vita cristiana con l'autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dopo aver lungamente riflettuto e invocato più volte l'aiuto divino e ascoltato il parere di molti nostri fratelli nell'Episcopato, dichiariamo e definiamo Santi Beati Paolo VI, Oscar Arnulfo Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Casper, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù, Ennunzio sul Prinzio, e li iscriviamo nell'albo dei Santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i Santi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il popolo di Dio, la Chiesa intera, oggi è in festa, che annovera nell'albo dei Santi cinque nostri fratelli e due nostre sorelle. è il momento della festa, della...